Sei pazza di me come io non so di te Tu resisti, non ti stanchi Mi confermi sempre dentro i tuoi ricordi E poi infilli, tu non ti spegni Ci graffiamo per non far guarire i segni Le monete viola e lascia infernale Ciao a tutti ragazzi, sono Gassarfield Tigre Siamo qui su Super Mario Galaxy Sperando che in questo episodio non ci sia lo stesso problema dell'episodio scorso Ok, non c'è il tempo, sono contento Ovvero il fatto che non mi aveva registrato l'audio E non so perché la parte La maggior parte della classe blocco Era veramente tanta perché sono morto un sacco di volte Me l'ha resa in guardate Era tutto rovinato Dai, dai Già non sono capace di pari saliti di maniera Ascolta, vaffanculo Ok, vaffanculo 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 Oh Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Dai no die No, 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 non scappare, vieni qua. Vai, go. Ma... porco demoni! Moro qui, attenzione a non cadere... ... 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